Porco nero di eccetera eccetera e quindi lui un pochino anche colpito su delle azioni che ha fatto e magari un po' anche strattonato è arrivato al punto che ha perso un po' la linea giusta diciamo. Un brutto episodio di razzismo e di violenza nel calcio giovanile aretino, la partita in questione è quella degli allievi B tra Arezzo Academy e Bibbiena, nei minuti finali entra un ragazzo di colore che viene insultato da due giocatori dell'Arezzo Academy, al fischio finale lui reagisce con violenza, si prende cinque giornate di squalifica poi alla fine il caso si chiude con le reciproche scuse. Alla fine della partita chiaramente ho detto va bene sono contento e poi l'ho fatto anche questo messaggio a tutti i ragazzi, sono contento di questa vittoria, della prestazione ma abbiamo perso, oggi abbiamo perso la nostra diciamo gara con la vita, una vita di crescita, una vita di professionalità che dobbiamo comunque sempre dare anche perché questa squadra anno scorso ha vinto il premio Fair Play. Ci sono due componenti della mia squadra e si sono un po' macchiati di questa colpa di offese razziste, sono entrato dentro lo spogliatoio e mi sono fatto dire quali erano i ragazzi che avevano offeso il ragazzo di colore del Bibbiena, l'ho preso, l'ho portato nello spogliatoio degli avversari e si sono scusati con il ragazzo del Bibbiena. Abbiamo fatto questa discussione che chiaramente si è basata sull'argomento della tolleranza, dell'integrazione, dell'uguaglianza. Non sono un fautore delle punizioni disciplinari, infatti i ragazzi anche domenica hanno giocato, non penso che la semplice sanzione possa essere un espediente migliore che una chiacchierata e la visione di qualcosa che possa riuscire a muovere qualcosa da dentro.